Afghanistan, la grande fuga dal paese, impressionanti le immagini delle persone che si aggrappano agli aeroplani in decollo verso altri paesi, paura innescata dalla caduta di Kabul e dall'intenzione annunciata dai talebani di proclamare l'emirato islamico nel paese. In fuga anche l'ex presidente Ghani chiuse tutte le strade per l'aeroporto. La situazione è gravissima, temo per le vite di chi ci ha aiutato, li cercano casa per casa. Nel Tg l'appello di un medico afgano appena sbarcato a Fiumicino alle 14.30, atterrato nello scalo romano il primo volo italiano del rientro da Kabul insieme al primo gruppo di italiani, anche una ventina di afghani che hanno collaborato con il nostro paese. Covid, da oggi i giovani tra i 12 e i 18 anni possono vaccinarsi senza prenotare, calano i nuovi casi ma sono in lieve aumento i ricoveri. Da oggi green pass obbligatorio nelle messe aziendali. A Iti oltre 1.300 morti del sisma che sabato ha colpito l'isola con numerose repliche anche di forte intensità. I feriti superano i 5.700. difficoltose le ricerche dei superstiti tra le macerie ad aggravare la situazione, l'allerta per l'arrivo di un tifone. Italia inizia ad allentarsi, la morsa del caldo, primi segnali al nord ma i temporali già iniziati hanno causato frane e smottamenti con una vittima. Da metà settimana calo delle temperature anche il sud ma sala solo una breve tregua. Buonasera dal TG2000 in apertura, dunque lo avete sentito dai nostri titoli l'Afghanistan, sono ore decisive per il futuro del paese. Kabul è caduta, i talebani annunciano la nascita dell'emirato islamico, paura tra la popolazione, migliaia rischiano la vita per le vendette degli studenti coranici nei confronti di chi ha aiutato finora la comunità internazionale. Chi può cerca la fuga, ma l'aeroporto della capitale nel caos almeno 5 le vittime nelle arese per le partenze. Nel pomeriggio a Roma è atterrato il primo volo italiano da Kabul. Sentiamo allora la cronaca di queste ultime ore da Massimiliano Cocchi. Il day after di Kabul è fatto di elicotteri che solcano il cielo per continuare ad evacuare il personale straniero e pattuglie di talebani e miliziani giornalisti mandati nelle strade per mostrare al mondo che l'emirato islamico proclamato ieri in Afghanistan è un posto sicuro dove vivere. È la messa in scena della propaganda talebana. L'ex presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, ha spiegato in un messaggio su Facebook di essere fuggito per evitare un massacro a Kabul e nel resto del paese, ma la sua fuga ha il valore di una resa incondizionata al regime talebano, tanto che migliaia di persone spaventate stanno cercando ora di lasciare il paese. L'aeroporto, sotto il controllo dei militari americani da questa mattina, è isolato. Tutte le strade sono state chiuse per evitare il caos di ieri. Quando cinque persone hanno perso la vita, non è chiaro se per la calca oppure se per colpi di arma da fuoco. Nonostante questo, decine di persone hanno rincorso un aereo cargo americano durante il decollo. Alcuni di loro sono riusciti ad aggrapparsi alla carlinga per cadere poi nel vuoto, come mostra questo video pubblicato su Twitter dall'agenzia afghana Paiwok. Una scena impressionante che ha ricordato i Falling Man, gli uomini disperati, che l'11 settembre 2001 si lanciavano dalle torri gemelle in fiamme. Nel pomeriggio a Fiumicino è arrivato l'aereo decollato nella notte da Kabul, con a bordo parte del personale dell'ambasciata evacuato dal paese assieme a una ventina di ex collaboratori afghani, tra loro il dottor Ali Furiake. Questa sera alle 21.45 ore italiane il presidente Joe Biden terrà un discorso in diretta televisiva. Dovrà spiegare a questo punto quale sarà la strategia della Casa Bianca. La presenza in Afghanistan delle forze internazionali durata 20 anni, obiettivo mettere all'angolo i terroristi dopo l'11 settembre americano e ricostruire il paese. Com'è possibile dunque che Kabul sia caduta in così poco tempo come se nulla fosse successo? Sentiamo Marco Burini. Chi si stupisce è stupido o in mala fede? La presa di Kabul da parte dei talebani non è una sorpresa. Per entrare nella capitale dell'Afghanistan non hanno nemmeno dovuto combattere. Non ne avevano bisogno. L'esercito afghano si è squagliato in un batter d'occhio, sfiduciato e senza più copertura aerea degli occidentali. Mentre loro, gli studenti del Corano di Etnia Pashtun, partiti negli anni 90 dal vicino Pakistan, tuttora il più fedele alleato, non hanno mai posato il Kalashnikov in questi vent'anni. Cioè da quando furono scacciati dopo l'11 settembre dagli americani, che li accusavano di nascondere Osama Bin Laden. Si sono rintanati nelle valli più remote, si sono riorganizzati, hanno continuato a prendere soldi dai paesi del Golfo Persico, a partire dall'Arabia Saudita, e pian piano, villaggio dopo villaggio, città dopo città, hanno riconquistato tutto il paese, senza mai perdere di mira la capitale, devastata in tutti questi anni da attentati sanguinosi e vigliacchi, come quello dell'8 maggio, 80 morti e 160 feriti, quasi tutte studentesse. Le donne sono il bersaglio numero uno di questi fanatici islamisti. Loro, le cittadine afghane, lo sanno benissimo e tremano di paura e di rabbia per il ritiro degli occidentali dopo che Trump, nel febbraio 2020, aveva firmato un'intesa coi talebani. L'ex inquilino della Casa Bianca aveva fretta di andarsene dopo una guerra di occupazione in cui gli americani hanno perso 2.400 soldati e speso 2.000 miliardi di dollari. Pure altri paesi, compreso il nostro, hanno speso cifre astronomiche e pianto diversi caduti. Da quel giorno gli afghani hanno perso fiducia, mentre gli ufficiali dell'esercito, vista la mala parata, hanno iniziato a vendere le armi ai talebani, che oggi siedono di nuovo al tavolo di comando, come se nulla fosse cambiato. Mentre Biden non sa bene che fare, e come lui gli altri capi dell'Occidente. Cina, Russia, Turchia e Pakistan sono gli attori in campo dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani, gli scenari che si aprono quindi per il paese nel commento dell'analista di Geopolitica Riccardo Redaelli. La prima incognita è quella della tenuta dell'unità dei talibani, che appaiono come un gruppo monolitico, ma non lo sono assolutamente. Vi sono al loro interno grandi diversità di interessi, di ideologia e di dottrina. dal punto di vista dottrinario e religioso. Sulla loro moderazione, comunque, è bene non farsi troppe illusioni. Lo si vede anche dai loro comportamenti nelle città che hanno già conquistato. Quello che è sicuro è che, per certo, buona parte delle riforme, dei miglioramenti introdotti in questi vent'anni, soprattutto per le donne, in tema dei diritti femminili e delle minoranze, verrà spazzato via dalla riconquista talebana. La seconda incognita è rappresentata dai legami dei talebani con le forze jihadiste internazionali, con il terrorismo internazionale. Legami che sono molto più deboli rispetto a vent'anni fa, ma è indubbio che vi siano ancora molti combattenti dei talebani che sono direttamente collegati, spesso proprio perché non afghani, con l'attivismo islamico violento internazionale. Infine, dato che in geopolitica il vuoto non esiste, chi subentrerà come influenza dopo il ritiro dei paesi occidentali? Innanzitutto il Pakistan, che è il paese che negli anni 90 ha creato, inventato e armato i talebani. Ma anche Cina e la stessa Russia sono pronte a entrare geopoliticamente e geoeconomicamente nell'area facendo accordi molto cinici con il nuovo emirato islamico. Del resto non sono paesi che si curano molto dei diritti umani e del mantenimento della democrazia. Sono tante le missioni e le comunità cristiane nel paese attive da anni al fianco della popolazione. Il quadro delle presenze e le conseguenze della presa talebana nel servizio di Paolo Cucini. L'Afghanistan dei talebani non sarà più quello di prima, anche per le opere di carità costruite a fatica finora dalla minuscola comunità cattolica, soprattutto sacerdoti e missionari stranieri fuggite. E l'allerta diramata in queste ore dalle loro ambasciate, poi si vedrà, ci sono le missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta che per anni hanno assistito bambini orfani, disabili e famiglie povere. C'è il centro di urno dell'Associazione Pro Bambini di Kabul, frutto dell'opera di Caritas Italiana e poi 14 congregazioni cattoliche insieme, riaperto giusto due settimane fa dopo una lunga chiusura a causa pandemia. Anche le due religiose rimaste devono partire e per tornare e riprenderle attività bisognerà contrattare faticosamente di nuovo un minimo di sicurezza. Passato questo primo momento di crisi in cui si vedono solo le tenebre, speriamo che si apra qualche spiraglio di luce. Con l'ambasciata italiana è chiusa adesso anche la cappella dove il Barnabita, padre Giovanni Scalese, celebrava messa, soprattutto per diplomatici stranieri. L'Afghanistan è un paese islamico quasi al 100%, dove blasfemia e apostasia sono punite con la morte e violenze e discriminazioni colpiscono anche la minoranza sciita, il 10% di afghani. Poi ci sono sparute comunità Sikh, hinduiste, cristiane. Non c'è una chiesa in tutto il paese, ma solo piccole comunità sotterranee che si riuniscono in casa a minuscoli gruppi. E il fanatismo cieco dei guerriglieri, nuovi padroni del paese, fa prevedere soltanto il peggio. E passiamo alla lotta al Covid in Italia. In Italia è iniziata oggi la campagna vaccinale per la fascia 12-18 anni senza necessità di prenotazione. Tanti ragazzi che hanno approfittato di questa opportunità. Sentiamoli nel servizio di Francesco Durante. Cambia il quadro dell'epidemia Covid in Italia. Un quarto dei contagi negli ultimi 30 giorni è stato registrato nella fascia d'età sotto i 18 anni. Solo il 5,22% dei casi è invece riguardato gli over 70. I dati emergono dall'ultimo aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità e confermano che in questo periodo ad essere particolarmente colpiti dal virus sono propri giovanissimi più che gli anziani, un tempo target ideale del Covid. Tra i contagiati da 0 a 19 anni, i casi severi risultano marginali e maggiormente presenti sotto l'anno d'età, mentre la parte più ampia è costituita da asintomatici e forme lievi. E sempre l'Istituto Superiore di Sanità rileva che nell'ultimo mese ci sono stati 397 morti per Covid e oltre 341.700 contagi, di cui 1.652 hanno riguardato operatori sanitari. Registrati oggi invece 3.674 nuovi casi e 24 decessi, con il tasso di positività che sale dal 3,5 al 4,9%. Intanto da oggi tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni si sono potuti vaccinare con Pfizer e Moderna senza alcuna prenotazione. Quando avevano scoperto il vaccino era già una mia scelta farlo per vivere una vita normale. L'iniziativa, già avviata in alcune regioni, è stata promossa dal commissario per l'emergenza Figliuolo che nei giorni scorsi ha scritto una lettera alle regioni chiedendo per i ragazzi una corsia preferenziale in vista della ripresa della scuola. Sul fronte controlli intensificata a Ferragosto l'attività delle forze di sicurezza per limitare gli assembramenti e le violazioni delle misure anti-Covid. Le sanzioni elevate in totale dall'inizio della pandemia sono state oltre 720.000. I centri per l'impiego non sono in grado di trovare lavoro ai disabili. Tra la mancanza di preparazione e lo scasso aggiornamento degli operatori il collocamento disabili non sarà in grado di rispondere alle nuove sfide occupazionali legate anche alla pandemia e alla denuncia di un disabile di 33 anni Lorenzo Torto raccolta dal nostro Francesco Beremigis. Chi ha delle difficoltà non può essere lasciato solo. Chi ci governa e rappresenta un'istituzione non può dimenticarsi delle fasce più deboli. Lorenzo Torto ha 33 anni vive su una sedia a rotelle e sulla sua pelle ha scoperto che l'Italia non ha recepito correttamente la direttiva europea sull'occupazione dei disabili. Secondo gli ultimi dati meno di un portatore di handicap su 5 ha un lavoro stabile nel nostro paese e la pandemia da Covid ha aggravato la situazione. Questo è l'unico Stato che sospende un diritto fondamentale il diritto al disabile di costruirsi un futuro e di rendersi partecipi all'interno di una società che sa valorizzare le potenzialità. Per noi disabili spiega l'attivista di Chieti lavori impossibili. Elettricista riparatore di ascensori gruista. L'inutilità che si è posto in essere per delle offerte di lavoro che umiliano la dignità umana perché il riparatore di ascensori o l'elettricista di cantiere è certamente un disabile non può svolgere questa mansione. Causa Covid il ministero ha sospeso l'obbligo di assunzione delle categorie protette da parte delle aziende che abbiano beneficiato della cassa integrazione facendo cadere di fatto la parità di trattamento chiesta da Bruxelles. Significa che le aziende sia pubbliche che private questi diritti vengono sospesi non si può tollerare che un diversamente abile si recchi presso i centri per l'impiego e legga che può svolgere mansione di elettricista di cantiere riparatore di ascensori e quant'altro bisogna rispettare la dignità umana. Il ministro Erika Stefani ha annunciato misure per stimolare l'inserimento lavorativo e il collocamento mirato ma Torto testimonia come molto spesso i centri per l'impiego manchino di consapevolezza. E soprattutto nel periodo della pandemia questo numero che porterà una notevole disuguaglianza crescerà e veramente ci viene la domanda di dire ma in che stato viviamo perché questo numero porterà notevoli danni sia fisici che psittici alle tante persone che soffrono. Ecco perché è tornato a scrivere alla Commissione Europea lo aveva già fatto nel 2012 ma finora sembra cambiato ben poco. Andiamo ora a Tokyo dove dopo le Olimpiadi appena concluse del 24 agosto prenderanno il via i giochi paralimpici per l'occasione arriveranno in Giappone atleti da tutto il mondo che avranno bisogno di supporto e assistenza per partecipare meglio alle sfide di ogni disciplina. Per questo lo vedete già dalle immagini è stato aperto il centro di riparazione per gli arti artificiali le sedie rotelle e ogni altra attrezzatura necessaria agli atleti una struttura dove saranno presenti oltre 100 tecnici specializzati in riparazione e manutenzione pronti a intervenire H24. In Thailandia intanto la polizia ha disperso con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua diverse manifestazioni di protesta contro il primo ministro Pariut accusato di una pessima gestione della pandemia della campagna di vaccinazione centinaia di persone hanno marciato verso la sede del governo chiedendo le dimissioni del primo ministro dopo la crescita nel numero dei contagi nel paese per questa ragione sono giorni che in Thailandia si susseguono cortei e incidenti con le forze dell'ordine e ci spostiamo ad Haiti dove cresce ancora il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7.2 che sabato ha colpito l'isola Caraibi che il nuovo bilancio è di almeno 1300 morti a peggiorare le cose l'allerta gialla per l'imminente passaggio sull'isola del ciclone Grace Luciano Piscaglia sono saliti a 1300 i morti e a più di 5700 i feriti causati dal devastante terremoto che due giorni fa ha colpito la regione sud occidentale di Haiti il sisma di magnitudo 7.2 ha provocato la distruzione di quasi 14.000 abitazioni e sono almeno 30.000 le famiglie haitiane che hanno perso la casa si teme che altre vittime possano trovarsi sotto le macerie e l'arrivo sulla zona di una tempesta tropicale preoccupa i soccorritori una cosa che ho notato ha dichiarato il primo ministro haitiano Areil Henry è stata la dignità delle persone nonostante la situazione l'intera area in cui vivo è stata distrutta racconta questa donna mentre per quest'uomo adesso sono necessarie almeno 30.000 tende per ricoverare gli sfollati intanto sul nuovo dramma che sta vivendo Haiti arrivano anche le testimonianze degli operatori umanitari internazionali gli operatori umanitari la protezione civile fin dai primi minuti si sono attivati per prestare i primi soccorsi e le strutture ospedaliere sanitarie della zona con grande difficoltà sforzo e spirito di sacrificio stanno apportando pure soccorso alle numerosissime persone che vi si stanno recando gli ospedali della regione però sono ormai al collasso un forte appello alla solidarietà internazionale è stato lanciato ieri dal Papa subito raccolto dalla Caritas Italiana presente ad Haiti dal 2010 che ha promosso una raccolta di fondi in tutto il mondo cresce la mobilitazione dalla Virginia è partito un team di 65 specialisti che ha portato ad Haiti 26 tonnellate di generi di prima necessità e attrezzature mediche in Spagna invece sono non meno di 12.000 gli ettari di terreno bruciati in provincia di Avila nel centro del paese iberico l'ha risonato oggi l'assessorata all'ambiente della Castiglia l'incendio il cui perimetro è di circa 80 km è scoppiato sabato mattina in un momento in cui si registravano temperature altissime a causa di un'ondata di calore che ha investito la Spagna negli ultimi giorni e anche la Grecia alle prese con un altro incendio un nuovo rugo è scoppiato su una montagna vicino alla città portuale di Lavri appena fuori Atene provocando l'evacuazione delle case della zona 70 vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme assistiti da 6 aeree e 4 elicotteri l'incendio è divampato in un'area di scarsa vegetazione ma nella zona sofiava un forte vento più di 500 incendi sono scoppiati in tutta la Grecia nelle ultime settimane durante una grave prolungata ondata di caldo che ha fatto salire le temperature e incendi anche in Italia nel Perugino ma la morsa del caldo inizia ad allentarsi già da oggi al nord primo calo delle temperature cui seguirà il resto del paese a metà settimana ma sarà solo una breve tregua che però ha già portato temporali e frani sentiamo Fausto Nicastro ore contate per Lucifero l'anticiclone africano che ha stretto l'Italia in un caldo torrido per tutta la settimana di ferragosto già da questa sera temperature in calo e prima pioggia al nord allerta gialla della protezione civile per temporali in Veneto Friuli e su un gran parte di Lombardia e Piemonte la depressione nord europea è già arrivata sull'arco alpino e nei prossimi giorni raggiungerà anche il resto della penisola non è la fine dell'estate ma una tregua che porta con sé temperature più fresche e precipitazioni martedì infatti le piogge arriveranno al centro e mercoledì al sud in Alto Adige i primi temporali hanno provocato alcune frane un uomo è morto nella serata di Farragosto trascinato da una colata di fango che si è staccata dal rio di Pram nella zona del lago di Valdurna ma gli ultimi colpi di coda del caldo favoriscono gli ennesimi incendi di quest'estate circa 300 persone sono state evacuate dalle rive del lago di Martignano 10 famiglie invece allontanate ieri dai monti Pisani sempre in Toscana oggi infiamme le colline di Val di Castello a Pietrasante in provincia di Lucca dove altre 10 persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni in Ligure invece sfollate tre famiglie e un agriturismo per un incendio nella zona di Framura in provincia di La Spezia ed è Bollino Rosso in Sardegna dove la protezione civile e regionale ha diramato un'allerta di pericolo estremo di incendi a causa del maestrale che da oggi soffia sulla regione è stato trovato morto nel lago di Mezzano vicino a Valentano in provincia di Viterbo un ragazzo di 25 anni che stava partecipando al Mega Ray Party in corso nella località tra Toscana e Lazio l'allarme era scattato dopo alcune segnalazioni di persone che ieri sera lo hanno visto immergersi in acqua e non riemergere più il lago è stato scandagliato e poco fa è stato individuato il corpo il giovane era nato a Londra ma era residente nel nord Italia un operaio è stato trovato morto accasciato a terra nel piazzale di una ditta di trasporti a Carmignano di Brenta in provincia di Padova a perdere la vita per motivi ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria è stato un lavoratore bosniaco di 55 anni l'uomo è stato trovato riverso a terra senza vita mentre stava effettuando un lavaggio della cisterna di un mezzo 500.000 persone hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia un dato diffuso oggi dai promotori dell'iniziativa c'è una regressione del senso della vita commenta Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita tutto ciò che è debole o fragile viene eliminato il servizio di Perluigi Vito i promotori del referendum per la legalizzazione dell'eutanasia annunciano di aver raggiunto le 500.000 firme e ora puntano ad arrivare a 750.000 per affrontare senza timori il vaglio della Cassazione e portare quindi il quesito alle urne nella prossima primavera già nei giorni scorsi il ministro della salute Speranza aveva promosso un'accelerazione per l'attuazione della sentenza della consulta sul suicidio medicalmente assistito sollecitando le regioni in merito alla composizione dei comitati etici che devono analizzare le richieste dei singoli ma pure in vista di protocolli per le ASL anche se la Corte Costituzionale non prevede nessun obbligo per il Servizio Sanitario Nazionale passi che sembrano incamminare il dibattito verso quella che si profila come una tentazione eugenetica il tema ovviamente è molto delicato a me pare però che il rischio è quello di affrontarlo in una sorta di regressione del senso della vita perché si sta sempre più affermando un concetto vitalistico salutistico vorrei dire per cui tutto ciò che è debole che è fragile viene eliminato magari con l'eugenetica o appunto con l'eutanasia qui dobbiamo comprendere che la fragilità è una dimensione essenziale che chiede a tutti noi di aiutarci gli uni gli altri consapevoli che anche quando non si può guarire si può sempre curare senza mai scartare nessuno altri 5 sbarchi a Lampedusa l'hot spot dell'isola sono presenti 836 migranti a fronte di una capienza massima di 250 intanto la Resc People chiede un porto sicuro per 166 migranti soccorsi tra loro 12 minori e bambini sotto i 5 anni e uno di 9 mesi sentiamo Silvia Ciufolini un flusso inarrestabile nelle ultime ore in 5 diversi sbarchi sono approdati a Lampedusa 67 tunisini tra cui donne e minorenni a soccorrere le imbarcazioni alcune motovedette della Guardia di Finanza ieri invece a bordo di 15 barchini sono arrivati 376 migranti l'hot spot dell'isola è ormai fuori controllo ci sono 836 ospiti a fronte di una capienza massima di 250 nel sud della Sardegna invece sono stati salvati 8 stranieri intanto nel Mediterraneo centrale la nave Geobarens della ONG Medici Senza Frontiere ha tratto in salvo 189 persone che si trovavano su un barcone di legno sovraffollato con ossigeno limitato ora sono in 214 a bordo della nave umanitaria ieri invece la Rescue People ha soccorso 165 migranti in tre diversi interventi tra loro anche 12 minori e un neonato di nove mesi ora è in attesa che le venga indicato un porto sicuro dove attraccare e i dati forniti ieri dal Viminale confermano che gli sbarchi da agosto 2020 a luglio 2021 sono aumentati del 128% solo nell'8,6% dei casi i migranti vengono salvati dalle ONG 7.843 sono minori stranieri non accompagnati più 155,2% molti di questi arrivi sono sbarchi autonomi quindi che non è che possiamo fermare nel mare perché il problema dell'immigrazione è un problema molto complesso Libia e Tunisia i due principali paesi di partenza mentre i rimpatri sono oltre 2.000 circa 1.000 proprio verso la Tunisia le entrate tributarie contributive nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute del 10,2% pari quasi a 31 milioni di euro rispetto all'analogo periodo dell'anno 2020 ad aumentare sono state le entrate tributarie dell'11,9% oltre 23 milioni di euro e quelle contributive del 6,8% 7 milioni di euro aumentano le entrate lo scrive scusate il ministero dell'economia e delle finanze aumentano le entrate derivanti dall'imposta sulle persone fisiche e sulle società e poi il gettito dell'IVA la CISA sugli oli minerali e l'imposta di registro e adesso è il momento che dedichiamo ai nostri giovani lettori la rubrica in cui raccontano il libro più significativo della loro vita sentiamo un libro che mi è capitato di leggere recentemente e che mi ha lasciato dentro tanti spunti di riflessione è gli squali di Giacomo Mazzariol perché mi sono rivisto come non mai completamente in uno dei personaggi in questo caso è Max della mia età il protagonista perché entrambi siamo molto affascinati dal mondo degli adulti e soprattutto guardiamo in ottica futura il problema però qual è? è che a guardare troppo avanti spesso si perde di vista il presente e cioè nel mio e nel suo caso le migliaia di esperienze spensierate che i ragazzi della nostra età devono fare prima di passare a una fase successiva della loro vita per cui la conclusione che ho tratto da questo romanzo è di vivere più intensamente l'oggi con uno sguardo meno ossessivo verso il domani perché a raddrizzare la ghina verso il futuro ci sarà sempre tempo rivivere il passato è purtroppo un'esperienza impossibile ci lasciamo per una breve pausa a tra poco non diminuiscono gli incendi in Italia i vigili del fuoco pochi minuti fanno comunicato che solo nell'ultime 12 ore hanno eseguito 626 interventi contro incendi boschivi e di vegetazione di questi ben 120 in Calabria e 105 in Sicilia è un aggiornamento che arriva arrivato in questi minuti dall'Afghanistan secondo fonti dei media locali sono morti almeno 10 persone nel caso dell'aeroporto di Kabul con decine di ferite lo riporta l'emittente locale Tolo News citando sue fonti e spiegando che le vittime sono rimaste uccise in sparatorie da parte di forze straniere nella calca e alcuni sarebbero invece caduti dagli aere in cui si erano aggrappati nella speranza di essere portati fuori dal paese ed è tutto per il momento vi lascio le previsioni del tempo e alla diretta della messa il TG2000 ritornerà alle 20.30 grazie per averci seguito e a più tardi